La prima volta che ho incontrato Streller è stato al mio provino di ingresso alla scuola di teatro, perché io sono arrivato al piccolo per fare la scuola. Venivo dalla Sicilia, non avevo mai visto il piccolo, mai visto Streller, mai visto uno spettacolo di Streller, quindi per me era un mondo nuovo, completamente nuovo. La prima volta l'ho visto al teatro studio, nel palcoscenico, dove si tenevano le ultime sessioni degli esami. Dopo aver superato le prime due selezioni è venuto il grande maestro, che per la prima volta abbiamo visto scendere dalle scalette della scuola. È stato un incontro con una personalità mai vista, una persona che a te ragazzino di vent'anni ti gridava dalla sala dei versi e delle parole per aiutarti. E scoprivi che ti si apriva un mondo con una sua urlata, con un suo grugnito dalla sala, con un suo sì, sì, vai, vai. E tu capivi che quel personaggio aveva delle altre aperture rispetto a quelle che ti eri preparato a tua casa. Streller è stato sempre presente come ombra, come presenza, come persona che sovrintendeva la scuola, ma devo dire non troppo fisicamente presente. La sua natura era quella del palcoscenico, non era un insegnante che si trovava a suo agio sui banchi di scuola. È venuto diverse volte, ma io non ricordo a scuola delle lezioni memorabili. Le lezioni memorabili erano quelle che venivano in palcoscenico perché noi, dopo le lezioni scolastiche, scendevamo giù al teatro studio dove lui provava il Faust. E facevamo parte, come tutti allievi, dello spettacolo facendo le scene corali. E quindi o si andava a provare il Faust, o si andava alla scala dove lui provava il Don Giovanni, o si andava al piccolo dove lui provava la grande magia, o l'arlecchino. E quindi le lezioni che io ricordo di Strehler erano giornalmente quelle che avvenivano dopo l'orario ufficiale della lezione a scuola. Perché vedere Strehler che provava le luci era qualcosa veramente di utilissimo perché per la prima volta io, giovane, mi rendevo conto di quanto drammaturgicamente potesse cambiare il racconto di una storia posizionando un proiettore in un punto o in un altro, facendolo accendere in un certo momento e spegnere in quell'altro come cambiava proprio il racconto. Cambiavano i personaggi. Lui arrivava in teatro tante volte e prima di cominciare le prove con gli attori, i quali aspettavano pazientemente per ore, lo arrivano già ed erano lì in attesa, lui cominciava a fare delle tecniche per riscaldarsi e faceva anche due o tre ore di luci, fonica, sentiva le musiche. Dopo un paio d'ore di atmosfera di questo genere qui, lui diceva, beh, cominciamo a fare l'arte. Diceva così, no? Cominciamo a fare l'arte e cominciamo a lavorare con gli attori. Mettiamo gli attori dentro questa situazione che lui aveva creato. Anche solo assistere a queste cose naturalmente era una grande lezione. Noi stavamo dentro a questo grande gioco, no? Che era la prova del Faust e quindi con i tecnici, con i costumi, con gli attori, lavorare fianco a fianco con Franco, Graziosi, Giulia, Lazzarini, con cui poi siamo diventati amici naturalmente, ma inizialmente noi eravamo dei giovani pischellini. Ma anche noi imparavamo davvero come si faceva il teatro. Lui trasmetteva tutta la sua umanità in palcoscenico. Lui ha sempre detto che il teatro ha una fortissima componente umana, quindi trasmetteva tutta la sua umanità lì in scena. Quindi non è neanche corretto dire che non l'ho conosciuto come uomo. Per lui l'aspetto professionale e umano spesso coincidevano. Metteva tutto il suo essere umano nella pratica di palcoscenico. è molto difficile in una parola dire che uomo era come artista, come essere umano. Streller era teatro, era teatro puro. Lui riusciva a trasformare in teatro tutto. Qualunque oggetto, qualunque parola, qualunque gesto, qualunque luce, lui la utilizzava per raccontare una storia. E allora lui riusciva a teatralizzare anche le cose più banali. Parlando, lui raccontava una storia e diventava teatro. Tu improvvisamente vedevi la scena. Lui te la raccontava e ti faceva la regia, ma non perché si metteva a farla apposta. Era nella sua natura. Raccontandoti una storia tu vedevi tutto. Quando lui leggeva i memoir o leggeva il Galileo o leggeva il Willemmeister da solo davanti a un leggio e un fascio di luce e un raggio di luce, lui ricreava tutto lo spettacolo raccontandotelo. Ecco, era una persona che creava il teatro da niente. Dire che Streller trasformava tutto in teatro si può esemplificare con un fatterello che è avvenuto durante una prova del Faust. Lui amava i giocattolini di latta, come i bambini. Durante le prove del Faust, non mi ricordo chi, qualcuno che veniva a trovarlo, gli regalò un orsetto, un orsacchiotto col tamburo di quelli che battono sul tamburo. Si dava la carica dietro e poi si fa tot, 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 tot. Lui è diventato un bambino. Che bello, bellissimo, oh che bello, guarda quanto è bello, guarda. Ha interrotto le prove. È andato al centro del teatro studio, ho appoggiato sto giocattolino per terra sul centro del teatro studio. Gerardo, dammi la KMI. La KMI è quello che fa il cerchio perfetto. Largo, largo, buio, spegne, KMI. Trac, trac. Dalla carica e questo orsetto comincia a fare tot, 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 al centro del teatro studio avanzando. Tot, 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 stringi, stringi, stringi. E la luce si stringeva, tot, 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 stringi, più stretto, più stretto, tot, 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 finiva la carica, tot, 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 più stretto, piccolo, 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 un cerchio di luce piccolissimo. Tot, 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 buio. Siamo rimasti così. Lui ha fatto un finale di spettacolo con un giocattolino di latta e un raggio di luce. Allora dice, vabbè, è un aneddoto che serve a dire quanto lui riuscisse a trasformare in emozione teatrale niente, tutto, qualunque cosa. Naturalmente questa cosa gli veniva da una antichissima esperienza e capacità di utilizzare gli strumenti del teatro. La luce, l'oggetto, lo spazio, il tempo. Era una cosa che aveva naturalmente imparato in decenni di esperienza, quindi non è che... Però naturalmente c'era anche una grande parte istintiva, una grande parte di capacità di raccontare le storie con niente. Streller ci teneva tantissimo all'insegnamento e di Goldoni e della commedia dell'arte. Quindi durante tutti gli anni della scuola noi abbiamo studiato Goldoni con diversi insegnanti. C'era Marina Dolphin che ci insegnava il dialetto veneto e c'era Ferruccio Soleri che ci insegnava la commedia dell'arte. Ma il primo incontro forte è stato nella preparazione dell'arlecchino che è stato il nostro saggio di diploma della scuola. L'arlecchino che io recitai per la prima volta doveva durare solo tre sere. Adesso sono quasi trent'anni che continuo a farlo. A questo spettacolo hanno contribuito tutti gli insegnanti dell'epoca che erano da D'Amato a Mauri, alla Dolphin, a Soleri, chiunque veniva e ci dava il suo proprio contributo sull'arlecchino. Quindi noi siamo cresciuti a scuola pane e arlecchino fino al debutto di questa nuova edizione che Streller inventò con tutti gli allievi che si alternavano nei ruoli. Questa cosa doveva durare tre sere. Durante uno spettacolo del Faust, io mi ricordo ancora, noi provavamo l'arlecchino e stavamo per debuttare l'arlecchino dei giovani come saggio al piccolo, ma intanto recitavamo il Faust. Streller ci ha convocati tutti quanti, noi allievi, dietro al sipario chiuso durante l'intervallo, c'era il pubblico in sala, noi tutti lì intorno, lui parlando piano perché c'era il pubblico di là, ha detto allora ragazzi abbiamo deciso che l'arlecchino che voi debutterete stasera, domani sera, quando sarà il... diventerà il vostro primo spettacolo perché lo abbiamo programmato per tutta la prossima stagione. E naturalmente lì c'è stato un momento di entusiasmo. Il saggio diventava il primo nostro spettacolo goldoniano e quello spettacolo partì subito in tournée. Dopo aver debuttato al piccolo noi abbiamo cominciato una tournée spaventosa per noi, ai nostri occhi soprattutto dell'epoca, Ginevra, Dusseldorf, Parigi, all'opera l'arlecchino, quindi nella forma della commedia dell'arte. Goldoni, commedia dell'arte, che non è stato l'unico grande Goldoni che Streller ha affrontato naturalmente. In quell'anno, che fu la stagione 92-93, se non sbaglio, del bicentenario goldoniano, contemporaneamente Streller aveva fortemente voluto che si recitassero tre spettacoli di Goldoni nei tre teatri che allora il piccolo gestiva, il lirico, il teatro studio e il piccolo. Credo di poter dire, io non sono un esperto, ma credo di poter dire che Streller avesse con Goldoni un rapporto speciale rispetto agli altri autori che lui ha amato alla follia. Lui stesso ci diceva che il dialetto è la lingua del cuore. E questa cosa la ritrovava in Goldoni. Aveva probabilmente con Goldoni lo stesso rapporto che gli uomini di teatro siciliani hanno con Pirandello o i napoletani hanno con Eduardo o con Viviani. Lui sentiva quasi un richiamo antico del sangue. Avvertiva di Goldoni molto più rispetto agli altri autori questa sua umanità, come se parlasse un vecchio zio, un parente. Lo spettacolo che lui non fece mai e che ha sempre sognato di fare era i Memoire, in cui lui stesso si identificava nel signor G. Goldoni, che però era anche G. di Giorgio Streller. Quindi lui aveva questo strettissimo rapporto con Goldoni. Naturalmente lui riusciva a tirar fuori dalle commedie goldoniane che venivano fuori da una tradizione ottocentesca, una umanità tutta nuova. Le baruffe, il campiello, sono gli spettacoli che io ho visto o a cui ho partecipato, sono delle commedie di una potenza, di una umanità e di una sensibilità straordinarie. Io sono entrato a far parte nel campiello soltanto in un secondo momento. Il campiello che lui ha messo in scena nel 92-93 era già una ripresa del campiello degli anni 60 e quindi era già una riedizione dello spettacolo. La stagione successiva noi abbiamo interrotto l'Arlecchino e io passai a recitare nel campiello sostituendo Elio Weller che faceva il cameriere Sansuga, un ruolo molto carino. E quindi sono entrato in corsa in uno spettacolo già avviato. Entrare nel campiello era come entrare in una poesia, soprattutto il primo approccio è stata questa meravigliosa scena di Damiani, tutta di carta dipinta con i coriandoli di carta che facevano la neve a terra con la pozzanghera d'acqua al centro e quindi noi tutti che entravamo in questa finta neve ci rotolavamo per terra con questi coriandoli che andavano dappertutto. Naturalmente era una favola. Con il campiello io ho fatto una gran bella tournée per un'intera stagione, da Parigi a Lungheria, insomma un giro sempre per il mondo, ma è durata solo una stagione. Ma lo ricordo veramente come un'esperienza che mi ha segnato, la lezione del campiello mi ha insegnato quanto potente potesse essere una apparentemente semplice storiella gordoniana, una metafora del mondo. Questo riusciva Streller a cogliere in queste piccole storie che apparentemente erano molto provinciali e riusciva a farle diventare storie universali. Altro grande amore per Streller, Brecht, io l'ho frequentato un po' meno con Streller, soprattutto relativamente a uno spettacolo, l'eccezione e la regola, che è stato messo in scena successivamente. Anche l'eccezione e la regola faceva parte di un festival, il Festival Brecht. Streller aveva spesso questo senso della creazione degli eventi, c'era l'anno dedicato a Goldoni perché era il bicentenario. Poi c'era l'anno del Festival Brechtiano in cui lui riprendeva tutti gli spettacoli brechtiani e ne faceva di nuove. All'interno di tutto questo festival abbiamo rimesso in scena l'eccezione e la regola che lui aveva fatto tanti tanti anni prima. Anche lì è stata un'esperienza nuova perché comunque la recitazione brechtiana, come la intendeva Streller e come Streller ha insegnato a noi, abbiamo dovuto studiare a scuola, questa recitazione epica, vera ma citata, sempre in terza persona e poi naturalmente dover cantare le canzoni con l'orchestra dal vivo, insomma richiedeva tutta una serie di conoscenze e di tecniche che abbiamo dovuto affinare a scuola. Il Brecht che Streller ci mostrava e cercava di comunicarci era naturalmente qualcosa che lui aveva imparato in decenni di esperienza di Brecht e che per noi invece era abbastanza nuovo. Per lui era una cosa che era diventata abbastanza familiare ma non era così semplice da trasmettere a noi. Ci faceva l'esempio spesso degli attori brillanti, degli attori del varietà. Recitava con noi Mimmo Craig. Che Streller ci mostrava come esempio non di attore brechtiano ma di un attore che, abituato a un certo tipo di teatro leggero, brillante, anche da varietà, esprimeva nella maniera migliore quello che lui intendeva nella recitazione brechtiana. L'essere staccati dal personaggio, prenderla in maniera leggera, con il divertimento e anche la critica del personaggio che naturalmente nel genere del varietà si fa senza saperlo. Questo per dire che il brecht che aveva in mente Streller non era un brecht intellettuale, pesante, noioso, ma era uno spettacolo leggero che in maniera sorridente e ironica denunciasse tutte le più atroci malvagità e tutte le più forti ingiustizie. Il ricordo, beh, due dopo il Faust è la prima dell'Arlechino, la sera del cinquantesimo. Naturalmente dopo il Faust come allievo tutti noi allievi abbiamo fatto irruzione nel suo camerino, cosa assolutamente off limits, soltanto Orsola poteva entrare nel camerino di Streller, ma noi dopo la prima del Faust tutti ancora in costume entusiasti e felici abbiamo bussato, siamo entrati dentro e siamo andati tutti intorno e lui ci dava forza ragazzi che siamo una bella squadra! Questo è un piccolo aneddoto da allievo, ex allievo. La stessa emozione forte me la ricordo al cinquantesimo quando abbiamo recitato l'Arlechino davanti a una platea di attori che tutti avevano fatto Arlechino. In prima fila c'era il grandissimo Ettore Conti che aveva recitato Pantalone fino a qualche anno prima e io l'ho sempre visto come un modello assoluto. e alla fine dello spettacolo Streller si materializzò naturalmente perché lui non veniva mai durante gli spettacoli perché non avrebbe resistito in silenzio. Lo facevano andare a casa, lo chiamavano quando lo spettacolo stava finendo e lui arrivava pochi minuti prima per venire a prendere gli applausi e si materializzò in quinta improvvisamente durante l'ultima scena dello spettacolo e girando lo sguardo abbiamo visto Streller in quinta che ci guardava da lì e seguiva tutti i nostri gesti e durante gli applausi siamo andati tutti fuori in quinta e lui doveva uscire per ultimo e io mi ricordo benissimo che è uscito in quinta, stavo accanto a lui e mi sono dovuto staccare da lui per correre in scena per prendere gli applausi. Dopodiché è venuto anche lui. Ecco sì sono dei ricordi questi si umani dell'uomo ma sono piccolissimi sprazzi perché la gran parte del lavoro è stato fatto in scena quindi ho detto la sua umanità si trasmetteva sempre in parco scenico. Grazie a tutti.